Le notizie per cui l'entroterra arriva l'Ettoria, pareva che ci fossero gli allevamenti di cani da combattimento. Una mattina siamo riusciti a individuare l'area e insieme al personale del VASL abbiamo fatto accesso in questa casa dove effettivamente all'interno erano allevati anche se clandestinalmente circa una quarantina di cani. Molti di questi avevano delle ferite anche multiple che facevano presagire che la nostra notizia effettivamente era fondata. Con il personale dell'ASL abbiamo immediatamente posto sotto sequestro l'intero allevamento e lo è tuttora sostanzialmente tranne un cane che è stato restituito e abbiamo riscontrato che all'interno di questa villa potereva metrosi avviera del materiale che poteva essere utilizzato per l'allevamento di cani da combattimento. Effettivamente abbiamo trovato un sacco di medicinali utilizzati per dopare sostanzialmente i cani, un tapirulano che serviva proprio per far conere i cani e dare maggiore forza fisica e addirittura anche delle siringhe che servivano per iniettare il microchip per i cani che è una pratica che deve fare assolutamente un veterinario, non può fare un privato. Per cui da lì abbiamo iniziato a tirare le fila di quella che effettivamente poi si è dimostrato essere un'attività coordinata, tanto che successivamente nel corso dei miliardi è stato ipotizzato anche il reato associativo e abbiamo individuato anche il veterinario che effettivamente si era prestato a tornare il microchip per l'iniezione del sistema e successivamente abbiamo subito informato la squadra mobile e insieme siamo arrivati poi fino ai giorni di oggi.